Espo e Cartotech, progetta e produce. La decisione di acquisto della marca avviene nel punto vendita in circa l'80% dei casi. Espo e Cartotech è un consulente a 360 gradi per tutte le soluzioni di shopper marketing. La nostra mission è aiutare i nostri clienti ad utilizzare al meglio gli strumenti di questa importantissima leva del marketing mix. Come ci sono agenzie specializzate per il consumer marketing e il posizionamento della marca nella mente del consumatore, noi siamo un consulente di in-store marketing che progetta e produce tutte le soluzioni espositive. Studiamo da sempre le dinamiche di acquisto nei punti vendita e conosciamo le caratteristiche di tutte le tipologie distributive e gli strumenti di in-store marketing più adatti a ciascuna di esse. Dal 1983 progettiamo e realizziamo ogni tipo di soluzione espositiva da espositori e totem a isole interattive con monitoraggio in tempo reale delle promozioni in-store. Forniamo ai nostri clienti un servizio completo, dal brief all'allestimento sui punti di vendita con reparti interni specializzati. Account con specifica esperienza di shopper marketing raccolgono i brief dai clienti. Trasmettono il brief al reparto interno di progettazione composto da 10 designer e 3 grafici. Forniamo al cliente proposte in 3D o campioni a dimensioni reali per pretest. Produciamo internamente con qualità certificata ISO 9001. Siamo in grado di fornire anche i servizi a valle della produzione, warehousing, shipment e assemblaggio sui punti vendita in tutta Italia. Un unico interlocutore per tutte le problematiche di shopper marketing. Materiali ed effetti grafici sempre innovativi e di alta qualità. Sistemi espositivi funzionali ed efficaci sono i punti forza di un'offerta studiata per esaltare il valore e le caratteristiche di qualsiasi prodotto. Utilizziamo molti materiali oltre al cartone per dare sempre ai clienti la soluzione giusta per i propri obiettivi di marketing, compreso animazioni e movimenti degli espositori. Siamo in grado di realizzare vere e proprie teatralizzazioni dei punti vendita, per migliorare l'esperienza di acquisto e assicurare il massimo impatto in ogni contatto con lo shopper. Proponiamo anche soluzioni multimediali per una reale interazione con il consumatore sul punto vendita, con progettazione e fornitura sia della parte hardware che software. Fino alla fornitura dei risultati dell'operazione con il monitoraggio di tutti i dati sugli shopper. Tutte le informazioni sono processate e veicolate ai clienti con report personalizzati. Il nostro valore aggiunto non è solo creatività, velocità e consulenza, ma anche cost efficiency, in quanto gestiamo internamente tutta la filiera produttiva fino alla spedizione, disponendo di un parco macchine all'avanguardia tecnologica che ci consente la massima efficienza su qualunque richiesta, dalle grandi produzioni fino a piccolissime tirature, tutte realizzate all'insegna della massima personalizzazione. Le nostre soluzioni di in-store marketing hanno vinto 10 Italian Popeye Award e 6 Europe Popeye Award. Da oltre 30 anni studiamo la soluzione più adatta per trasformare gli obiettivi di marketing in esperienza reale del consumatore sul punto vendita. Espo e Cartotec progetta e produce